No, non chiamate la guerra. Non è una guerra quella che è in corso in Israele. Guerre ne abbiamo viste tante. Una è in corso in Ucraina. Ma questa non è una guerra. Questo è uno sterminio. Iniziato o esploso una settimana fa, coava dai cenni e affiorava periodicamente, ma episodicamente. Poi, qualche giorno fa, è diventato uno sterminio esteso alle popolazioni civili. Non mi infilo nella spirale astiosa delle accuse su chi ha cominciato e la matriosca delle persecuzioni. Un popolo assediato e circondato da paesi ostili che ne assedi e ne circonda un altro. Anzi, uso il meno possibile il riferimento ai due popoli, israeliani o palestinesi. Chi uccide un bambino, uccide un bambino. Non un israeliano, non un palestinese, un ebreo. Un bambino. Solo un bambino. Esiste una differenza tra soldato e assassino. Li separa una linea sottile, eppure netta, cruciale, decisiva. A tracciarla non è una supposta natura umana, ma il vomere che segna il confine tra civiltà e barbarie. Il vomere che lo traccia e il fucile che lo difende. Questa affermazione sarebbe apparsa ovvia fino a qualche tempo fa. Ora non lo è più. Non lo è più da quando in Occidente si sono diffuse forti correnti intellettuali, le quali, spingendo all'eccesso il senso critico che è il motore stesso della nostra civilizzazione, hanno sottoposto a una radicale e spesso sconsiderata revisione i concetti e i valori positivi che ne sono fondamento. I massacri compiuti da Hamas ci riportano alla terribile realtà. Abbiamo letto in questi giorni accorate invocazioni alla Comune Umanità, affermazioni secondo le quali gli ecciti di bambini assassinati e decapitati nelle loro case ci interpellerebbero in quanto esseri umani. Capisco l'emozionalità suscitata dall'orrore, ma non è così. È peggio di così, è più difficile di così, è più drammatico di così. Giunti di fronte all'estremo, non esiste nessuna umanità a cui fare appello. Quegli orribili ecciti ci interrogano non in quanto esseri umani, ma in quanto esseri umani civilizzati. La differenza tra soldato e assassino non esiste in natura, è culturalmente costruita. Soprattutto non appartiene a tutte le culture, ma è il risultato del lungo, lento, sempre precario processo attraverso il quale la cultura europea ha costruito nel corso dei secoli la propria idea di civilizzazione come perfezionamento graduale dell'umanità. Se per punire uno Stato tu colpisci un popolo e sgozzi innocenti, tu non fai la guerra, ma compi uno sterminio. Se per punire un terrorista tu uccidi la sua famiglia, tu non fai la guerra, né fai giustizia. Compi uno sterminio. Se uccidi gente nelle case, mentre dorme, manga, inerne e spaventata, tu non fai la guerra. Fai uno sterminio. Se li fai morire come topi in gabbia e la sfissia, o togliendo loro tutto ciò di cui vivono, o stringendoli ad uscire per poi massacrarli, tu non stai combattendo una guerra, tu li stai sterminando. Lo sterminio è il grado peggiore dell'odio e della violenza, più della guerra, perché non combatte contro un nemico, ma elimina tutta l'umanità che si muove all'interno dell'obiettivo. Non vuole batterlo, ma cancellarlo. Col sottointeso che il nemico faccia altrettanto. E se elimina pure i bambini, vuol dire che vuole sradicarlo, ne vuole impedire la ripopolazione futura. La guerra ha le sue regole. Qui l'unica regola è portare al massimo livello di estensione e crudeltà il male che si vuole fare. L'idea stessa che spinge gli sterminatori non è vincere la guerra, ma è spiantare ed eliminare un popolo. Nello sterminio o nella fuga, disperdendolo altrove. Da sempre i guerrieri mozzano ed esibiscono le teste dei nemici, da sempre ne stuprano le donne, da sempre ne uccidono i figli e i bambini. Anche i nostri antenati lo fecero. Anche i nostri antenati, soprattutto i popoli di stirpe germanica, elessero a modello il guerriero belluino, la cui forza consisteva proprio nello scatenamento di una ferocia bestiale, capace, nel corso del combattimento, di renderlo simile a una belba. Sono soltanto il cristianesimo e l'ideale cavalleresco ad avviare in Europa occidentale un processo di civilizzazione durato secoli, alla cui scatorigine sta la separazione tra soldato e assassino. Come ci insegnò Norbert Elias, la curializzazione del guerriero, cioè il suo ingentilimento, il suo addomesticamento alla civiltà delle buone maniere dopo la fine delle guerre di religione, fu una tappa fondamentale di questo lungo lavorio storico della nostra cultura. Noi siamo quelli che non mozzano le teste dei nemici, non ne stuprano le donne, non ne uccidono i figli e i bambini. Soltanto dopo secoli e millenni di ferocia belluina, noi europei ci siamo riconosciuti in queste affermazioni identitarie. Si tratta inoltre di una conquista mai definitiva, smentita moltissime volte dalla nostra storia, anche recente. La barbarie tecnologica nazifascista in pieno novecento rappresenta purtroppo fra le tante soltanto la più enorme delle smentite. Eppure per quante volte la realtà dei conflitti armati lo abbia smentito, si tratta indubbiamente di un ideale regolativo che ha modificato in profondità il nostro comportamento in guerra, fino al punto di rappresentare un potente fattore identitario. Il consolidamento delle democrazie liberali ha infine contribuito fortemente a rafforzare quell'ideale, colmando significativamente il divario che lo aveva separato troppo spesso dalla realtà. Il peggio, si sa, è il terrorismo. Che è guerra ad personam, senza confini né regole, col paradosso che le persone non contano. Sono solo bersagli, simboli, categorie. Ma non lo chiamerei male assoluto come fanno in tanti, perché neanche nel male l'uomo può farsi assoluto. Il terrorismo è un male radicale, forse il male peggiore che ci possa essere, anche se la guerra, muovendo stati e armamenti poderosi, può fare assai più devastazioni di un atto terroristico pur cruento. Poi resta da stabilire fin dove e a chi si possa estendere la definizione di terrorista, e se possa riguardare anche stati ed eserciti, come si sostiene da qualche tempo. Sul piano umano e personale, anche il peggior male ha magari alle sue origini una giustificazione umana. Il dolore e la disperazione per i tuoi cari sterminati, davanti ai tuoi occhi. Nell'inferno dello sterminio, la vendetta è l'ultima traccia di umanità che resta, perché muove da una motivazione in origine comprensibile. La vendetta segna il passaggio dall'umanità alla ferocia. È il sentimento che precede e motiva quel diventare disumato. Ora molti di noi si sentono assediati, presi in una tenaglia tra guerra in Ucraina ed ennesima guerra in Medio Oriente. È vero infatti che mai come in questo caso la maggioranza di noi, inermi, pacifici, protetti cittadini dell'Europa occidentale, si è sentita prossima ai cittadini di Israele, quasi che l'orrore abissale ce li abbia resi i fratelli dopo decenni di critiche e distinguo. Ci sentiamo assediati da nemici mortali, proprio perché ostentatamente alieni ha la distinzione tra soldati e assassini, tra combattente e torturatore, tanto al confine tra Gaza e Israele quanto in quello tra Russia e Ucraina. È una psicosi da assedio che dura a corrente alternata a meno da quando il secolo cominciò l'11 di settembre del 2001. Sin da allora la propaganda bellica statunitense innalzò a mo' di bandiera la contrapposizione tra guerra e terrorismo. Ricordate le headline delle televisioni all news che programmavano war versus terror? Non si limitavano a dire che si preparava una guerra contro il terrorismo, ma che la guerra stessa, se combattuta in piena luce mediatica secondo i canoni della civiltà occidentale, sarebbe stata l'antitesi della abietta, oscura violenza terroristica. Quei proclami non impedirono agli Stati Uniti e ai loro alleati di combattere una guerra profondamente sbagliata e dannosa in Iraq nel 2003, così come l'appartenenza di Israele alla civilizzazione europea non ha impedito allo Stato ebraico di trasgredirne molte volte limiti e valori fondanti. Quanto al pericolo che si scateni una nuova guerra mondiale e al fatto che ci stiamo andando assai vicini, la penso diversamente. Ci siamo andati vicini nei primi anni 90, ai tempi della guerra del Golfo e poi dell'attacco all'Ira. ci arriviamo ancora più vicini al tempo delle due torri e di quel che ne seguì tra guerra e terrore. Abbiamo sferato il conflitto mondiale pochi mesi fa tra Russia e l'Occidente. Anche in questo caso ci stiamo avvicinando a una guerra mondiale per quel che succede in Medio Oriente, che resta comunque la prima polveriera del mondo da più di mezzo secolo. Ma la guerra sarà guerra mondiale, catastrofe globale, quando coinvolgerà direttamente i giganti della Terra. E' una minaccia che serpeggia. La vera sorpresa non è che ora siamo alle porte di una guerra, ma che lo siamo periodicamente da svariati decenni e non varchiamo mai quella soglia terribile. Grazie a Dio, alla fortuna, agli uomini o agli eretti. Eppure, al di là dello shock emotivo del momento, l'unica strada che possiamo percorrere senza smarrirci del tutto è quella che conduce a ribadire i valori positivi della nostra civilizzazione fin dentro la guerra e dunque, purtroppo, a prepararci a combattere ancora e ancora, ma rimanendo fedeli ad essa. Tutto ciò comporta un enorme onere morale e materiale. Dobbiamo deporre alcuni sogni della nostra giovinezza riconoscendo, innanzitutto, che il pacifismo assoluto, figlio di due apocalittiche guerre mondiali, sia rivelato alla lunga un'illusione nociva. Dobbiamo tornare a concepire una cultura della guerra civile, come fecero i nostri nonni quando combatterono il nazifascismo. Dobbiamo, soprattutto noi europei d'Occidente, approntare al più presto una potente forza armata comunitaria che ci consente in un prossimo futuro, non certo di esportare la nostra idea di civiltà democratica sulla punta delle baionette, ma di difendere il confine tra soldato e assassino quando venga attaccato, ossia il nostro confine. Ma lasciamo sullo sfondo il pericolo della guerra e vediamo quel che c'è davanti a noi, lo sterminio. A volte ti capita per un momento di sentirti lì, dentro l'incubo, per le strade di Israele o di Gaza, senza avere alcuna colpa se non quella di appartenere a quel popolo, di essere nato là e di abitarvi. Appena ti cali in quel luogo, ti manca il respiro, ti senti soffocare, vorresti scappare e non si sa da dove, verso dove. Poi ti sorge quel filo di umanissima viltà e ti senti graziato o fortunato perché abiti in un'altra parte della Terra, piena di problemi, ma un paradiso rispetto a quell'inferno. Ma non ti basta scamparla. Ti insorge comunque il dubbio che possa capitare anche a te e ai tuoi cari. E comunque c'è qualcosa che è dentro di te che ti fa sentire partecipe, consorte, solidale a quel destino, da cui non puoi chiamarti del tutto fuori. E sorge un sentimento doloroso di impotenza in cui l'unico alibi per uscirne è che siamo troppo piccoli, fragili e passeggeri per caricarci di tutte le tragedie del mondo. non servirebbe a nulla, profonderebbe solo noi stessi. ci siamo a lungo illusi di poter ripudiare la guerra in quanto tale. È stato un nobile ideale ma spesso nella sua ombra è cresciuta la pianta di una torbida, sanguinosa, sciacurata ipocrisia. Il meglio che si possa fare per il nostro futuro prossimo è di prepararci alla guerra, se necessaria, da soldati civilizzati. Questo significherebbe anche, forse soprattutto, metterci nella condizione di rimanere neutrali quando fossimo chiamati a un conflitto in cui non ci riconosciamo. Si tratta niente meno che di farci i legittimi eredi della parte migliore della nostra storia, ribadendo che noi siamo quelli che non mozzano teste, non stuprano, non uccidono bambini, ma se necessario, combattono. Ma l'orrore c'è, resta negli occhi e pure dentro. Basta affacciarsi alla finestra, in forma di video, per rendercene conto. Poi pensi ad altro, capisci che nel mondo ci sono mille altre cose e noi abitiamo tanti mondi con la memoria, con la fantasia, con la natura, con la speranza, con l'amore per la vita e per l'eterno. C'è vita oltre lo sterminio ed è più grande del male.